La campagna di vaccinazione sta entrando nel vivo e anche grazie a questo nuovo centro ci sarà un punto di svolta importante. A dirlo è stato il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, presente questa mattina insieme all'assessore alla sanità a piedi ripa di Macerata. Ulteriori novità nel piano, ha aggiunto il Presidente, e le avremo quando il numero delle dosi ci consentirà di coinvolgere anche le imprese, le associazioni di categoria e i sindacati. Ringrazio le amministrazioni e tutti coloro che si sono adoperate per mettere a disposizione punti vaccinali come quelli che abbiamo inaugurato oggi. Credo che i tempi dipendano, come le dicevo, molto dal numero dei dosi che ci verranno consegnate. Noi potremmo raggiungere anche una capacità vaccinale che oggi intorno ai 10.000 potrà essere implementata, ma per implementare la capacità vaccinale debbono prima essere messe in sicurezza le categorie fragili, le categorie deboli e poi possiamo così coinvolgere altri soggetti e ampliare i punti di vaccinazione. Acquaroli poi è intervenuto sui possibili contagi all'interno delle scuole, dove, assicura il Presidente, terremo alta l'attenzione. Non possiamo permetterci che magari fra un mese, quando l'Italia potrà, speriamo, con l'auspicio, tornare su fasce con una capacità di restrizione minore, poi magari le marche vedranno riprendere la curva del contagio. Quindi non intendiamo fare azioni di prevenzione, ma un monitoraggio forte sulle scuole e anche nelle città. Tutte le città che supereranno 250 su 100.000 contagi percentuali a settimana saranno oggetto di restrizioni che andranno a cercare di tenere la curva sotto controllo senza arrivare a misure che coinvolgono le province o tutta l'intera regione.